Ciao a tutti ragazzi noi siamo i papi youtube e questo è il nostro primo video ufficiale, il primo video del nostro canale e in questo video andremo a rispondere a 10 domande un po' per conoscerci meglio alcune riguardano noi, alcune riguardano il nostro canale youtube o comunque i prossimi video che andremo a fare e detto questo iniziamo il video ok ragazzi riprendiamo da dove avevamo lasciato iniziamo con le domande, allora prima domanda è chi siamo? allora noi siamo i papi di youtube, dei creators italiani che fanno video su videogiochi, curiosità eccetera e se volete divertirvi passate su questo canale passiamo alla seconda domanda che è il nome allora io mi chiamo Giuseppe Quarta e io sono suo fratello Ernesto Quarta poi la terza domanda è quanti anni abbiamo? allora io ho 11 anni e lui... 14 so che non ve ne fregherà niente però solamente per le domande noi lo facciamo quarta domanda allora perché abbiamo creato un canale youtube? ok allora noi abbiamo creato un canale youtube per divertirci un po' e per staccare un po' da tutti gli impegni della settimana che magari ci stressano troppo e quindi stavamo cercando un rimedio, una soluzione a tutto questo stress portato dalla scuola, dai compiti o da tutti gli impegni che abbiamo nella settimana poi la quinta domanda è quali... chi sono i nostri youtuber preferiti? allora il mio è Lion io adoro, adoro tantissimo Mike Shosha e anche se prima guardavamo diversi altri youtuber come... ehm... Zano per esempio o... Cap e Kazoo Cap e Kazoo Ninna e Matti guardavamo diversi youtuber poi... sesta domanda e... quali sono i tuoi giochi preferiti? allora i miei sono Stumbleguys, Minecraft e Fortnite e i miei giochi preferiti invece sono FIFA e Spider-Man passiamo alla settima domanda allora... quali serie vogliamo fare? allora... ehm... noi vorremmo fare diverse serie e... ehm... noi abbiamo i giochi di Spider-Man abbiamo Minecraft, FIFA quindi possiamo fare dei video su questi possiamo pure fare video su giochi mobile sul telefono per esempio Stumbleguys e... ehm... e... bruestars per esempio o... mh... altri giochi poi ovviamente voi scriveteci che giochi volete vedere e... noi proveremo ad accontentarvi ottava domanda allora... quali sono i nostri obiettivi? allora... tra i nostri obiettivi ci sono... quello... cioè quello di... ovviamente di raggiungere dei... bei risultati su YouTube però... ehm... quello più importante è quello di strappare un sorriso a tutti... tutti i pazzi che ci guardano e... e... strappare un sorriso a farli divertire con i nostri video passiamo alla nona e penultima domanda che è il nostro nome su Instagram allora... il mio è pericola 11 tutto staccato con la T maiuscola ovviamente noi ve lo stiamo dicendo perché dovete andarci a seguire su Instagram allora... il nostro... il mio nome su Instagram invece è Erni con la Y trattino basso quarta 2008 seguiteci e iscrivetevi al canale ovviamente decima e ultima domanda è... ehm... che video faremo su questo canale? allora... prima avevo già parlato vi ho parlato dei video che faremo sui videogiochi e... faremo anche delle curiosità potete dirci per esempio... dei titoli delle curiosità faremo video sul calcio su... sugli sport o comunque su molte curiosità voi scriveteci quale... quali argomenti volete vedere quali argomenti volete che trattiamo e noi cercheremo di fare dei bei video riguardo a questi e allora... il nostro... il primo video nostro è finito speriamo che vi sia piaciuto ovviamente lasciate un like e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video grazie a tutti... grazie a tutti...